Parlaci di What's Anna Ciao, What's Anna è un progetto nuovo, è uno spin-off della serie New School ed è una storia che gira intorno ad Anna, appunto, come si vince dal titolo e di più non posso dire perché oggi è la mia seconda giornata di riprese quindi è un ambiente nuovo anche per me Tre aggettivi per descrivere questa nuova serie Tre aggettivi per descrivere questa serie è abbastanza nuova, frizzante e dinamica Se come Anna guadagnassi dei soldi affittando la tua cameretta, che sogno realizzeresti? Se come Anna potessi affittare una stanza, quale sogno realizzerei con quei soldi? Una moto nuova, ecco sì, una moto nuova Grazie a tutti!